Continuano senza sosta le ricerche di Osama, il 14enne di origini marocchine, residente da diversi anni a Salice e Salentino, dove vive con tutta la sua famiglia. Da fine luglio del ragazzo non si hanno più notizie. Non si sa se dietro questa assenza ci sia una precisa scelta di allontanarsi volontariamente da casa o se la natura del suo allontanamento sia riconducibile ad altri motivi. Una scomparsa misteriosa che gli investigatori stanno cercando di risolvere seguendo ogni traccia e ogni segnalazione sui possibili avvistamenti del 14enne. Di certo i genitori del ragazzo vivono in preda all'angoscia e alla preoccupazione. Accanto alla macchina delle ricerche da parte di carabinieri, polizia, vigili del fuoco e volontari della protezione civile impegnati a setacciare palmo a palmo il territorio è partito anche il passaparola sui social network. La Digos è impegnata a vagliare ogni soluzione, scandagliando attraverso l'analisi di tabulati, filmati delle videocamere di sorveglianza, stazioni, aeroporti e frontiere. Numerose le segnalazioni arrivate agli inquirenti, non solo dal Salento ma anche da varie città d'Italia. Ricerche anche tra i contatti della famiglia che nei giorni scorsi insieme all'imam di Lecce Saifeddin Marufi aveva lanciato un appello affinché il ragazzo tornasse a casa sano e salvo escludendo categoricamente l'ipotesi del reclutamento da parte dei guerriglieri dell'ISIS. Di sicuro Osama viene descritto come un ragazzo allegro e brillante ma al momento sembra essere davvero svanito nel nulla. Nessuno riesce a darsi una spiegazione per questa fuga senza un apparente pretesto. Intanto è confermata la manifestazione di solidarietà a Salice e Salentino a cui parteciperà anche il sindaco.